Tre piscine, un centro fitness, un bar e un ristorante. Si configura così il progetto approvato dalla Giunta di Ravenna per la nuova piscina comunale. La proposta è della società Arco Lavori e prevede la demolizione e ricostruzione per fasi dell'impianto sportivo, per non interrompere l'attività. La proposta è avanzata di 18 milioni e 6, di cui un contributo comunale di 4 ore e mezzo. Chiaramente questa è la base di partenza per il patto. L'Inter prevede che si passa attraverso il Consiglio Comunale, che è stato sicuramente molto attivo nel fare proposte che tenessero in considerazione le richieste che erano state fatte. Si verrà inserito il progetto, cioè la cifra, la trenale dei lavori pubblici, dopodiché questo progetto andrà a bando e altri soggetti bisogneranno presentare le proposte. Ho convocato le associazioni per poter illustrare il progetto. Cosa cambia dal primo al secondo progetto per la piscina? Noi ha seguito chiaramente delle richieste che sono state avanzate circa un paio d'anni fa nelle società sportive, cioè la richiesta della non interruzione e di avere anche a disposizione più acura. abbiamo chiaramente messo questi paletti a chi ha rappresentato il progetto di valutare la possibilità di poter integrare queste soluzioni.